Oh no! Devo aprire subito il video e vedere come hanno fatto quei brutti farabutti ad ucciderlo! Hey là pokefanatici e benvenuti in Pokémon Polyversion! Wow, chissà perché io c'entro qualcosa in questo video! Non lo so, il mio Pokémon preferito è sempre stato Sanflora, quindi non capisco! Mi piace Sanflora soprattutto per le statistiche alte! E' perché esplode! Esatto! No! Ma era Sancturne esplode, Sanflora non esplode, fa schifo e basta! Eh vabbè, Sancturne è la versione prima quindi Sanflora esplode ancora meglio! Perfetto! Guarda l'hanno fatta così bene che il logo è sminchiato e la status screen è buggata in basso a sinistra! E' vero, è vero! Pokémon Polyomelite version proprio! E quindi questo gioco c'è Poliwirl, mi sa eh! Non lo so eh! No? Ah ok! Ciao allora vado via! No! Torna indietro, hai firmato un contratto! Guarda bene Pikachu, potrebbe sparirgli la testa! E' vero! Gli ha le orecchie! Ciao, stai per giocare a un hack di FireRed chiamato Pokémon Polyomelite version! Io, Lord Viuomo, ho fatto questa hack e tutta da solo! Spero ti... VAMO! Spero ti piazza! Anche perché per fare quel title screen guarda, due persone insomma! Ma veramente! Vieni il pulsante A e lascia che la tua avventura cominci! Testro! No grazie non voglio! E lasciati andare a queste brutte copie di giochi! A del magma di sotto il professor Occhi! Mestruo! No, sono il professor Occhi! Tra due minuti sprofonderò in questo portale dimensionale! Ciao, piacere di conoscerti! Benvenuto nel mondo di Pokémon! Sono il professor Knarr! Di Knick Mare! Vabbè! Buon Dio! Oh mio Dio, santissimissimo! La gente si riferisce a me come professor Pazzo! Cazzo, non so perché! Professor Insane! Questo mondo è abitato in lungo e largo da creature come te! È in lungo e largo! Che bello! Grazie per il complimento! Ma aspetta, qui noi siamo dei Poliwears! Eh, probabile! Non lo so! No, forse ci sta paragonando ai Pokémon! Non lo so! Sono pazzo come professione! Beh, non sapevo! Cioè, veramente adesso si può fare su serio qualsiasi lavoro nella vita! Eh beh, ascolta, con la crisi che c'è! Clicca on boy! Se anche lo youtuber è diventato un lavoro, non vedo perché essere pazzi non dovrebbe esserlo! Clicca sul ragazzo! La ragazza è glitchata! Oltre una possibile riparazione! Aspetta, questo mi ricorda qualcosa! Sei un ragazzo o sei una ragazza? Jupiter! Oh cazzo! Oh mio Dio, quant'è mangiata! Oddio! Ma che cavolo! No dai, dobbiamo scegliere per forza la ragazza allora! Non ci sta puffetta, mannaggia! Eeeeh... Zinja! Bellissimo! Ti chiami Zinja, sì! Cosa? What? È un uomo d'affari! Il giugno lo vede entrare in ufficio! Salve, è qui la conferenza! Ah, che cazzo è quello! Nickname! Ah, è il rivale quello? Sì, lo chiamiamo fagiolo! Per ora può andare fagiolo! Oh, fagiolo ci entra proprio a fagiolo! Dio mio! Ok, la tua leggenda sta plop plop! Ci iniziamo! Eeeeh! Oh mio Dio, non avrei dovuto mangiare quelle sardine ieri sera! Cos'è il polizemolo quello? Ehi mamma, dov'è il mio... Eh, sei un drago, no? Gaga! Reminescenze di Snakewood! Mamma, mi avevi detto che il tuo problema con i cosplay l'avevi superato andando in terapia! Ma questo però lo lasciamo! No, lo chiamiamo, no, cos' qui lo lasciamo! Eccolo! Ebbè, ebbè! No, D'Lurz! Quella è la sola! No! Come lo chiamiamo, dai! Sì, andava bene D'Lurz! Ah, ok! Era just for the lulz! Cosa? Come si chiama? E-G-G-A! No, no, il nome! N-G-N-G-G-A! N-G-N-G-G-A! Come va? Male! Ma sono in coma come Ash che è in coma? No, come Nobita, vuoi dire! Ma anche Nobita! Sì, ma il Doraemon finisce che Nobita è in coma, anche i Puffi, anche i Pokémon, anche Dragon Ball, siamo tutti in coma! Io risenterei per giocare Poliweer, scusate! Voi! Allora, avviso lampo, ho appena cambiato il mio Pokémon preferito, e... Adesso... Adesso... Dai, Raspers! Adesso è Raspers, dai! Adesso il mio Pokémon preferito è... Ehm... Durant! Gotagoflop! Sembra Sonic! Quello lì mi sa che è un po' intrappolato, eh? Ma leggermente... Cos'è si... Cos'è si... Quando ti svegli la mattina dopo un rave party, praticamente... Oddio, sì... Cosa... Cos'è questo mapping? Cosa... Quel vecchio uomo folle a pensare che... Aspettate, ma... Quella è una vagina! Dio mio! Come capisca! Vogliamo parlare di quella piccola grotta che c'è a destra, che finisce tipo dopo un passo, perché più c'è il terreno piano... Ehm... Però scommetto che se ci entri dentro, è lunga, 45 stanze... Oh no, è il tizio che vuole il caffè! Per caffè, volevi dire... Ehm... È un nuovo, sei arrivato, devi aiutarmi! È un nuovo, sei arrivato, devi aiutarmi! È un nuovo, sei arrivato, devi aiutarmi! Ehm... Lo scuoterò... Very close to home... Beh, mi sembra giusto... Ah, dai, saprò una cosa che è... Ehm... Porta segreta Settimisola, come entrare? Caricato YouTube 2009... Aiutami! E mi sfida! Ecco così, subito, pronti! E vai! Ah, io... Paggio dei... Degli spiriti, quelli di Yu-Gi-Oh! GX, che ti sfidavano e poi mandavano in campo le loro stessi! E spesso! Tipo, ehi, sono Jinzo, e ora evoco Jinzo! Aspetta che faccio due passi avanti... Eccomi! Ehm... Eccomi qui! Ehm... Animazione! Eh beh, gente, non lamentarti! Io faccio così, io uso una proxy! Ehm... Questo qui è qui da tre settimane, mi dispiace! E sei ancora vivo?! Eh, ma la scala è lì e questo è il problema! Legend J Pokemon Center Community! facciamo per voi lo facciamo per voi cosa sei ciccio allora ragazzi 40.000 like prossimo episodio di pokemon poli edition non ho fatto bene la voce cosa sotto 5 sinistra 9 sopra 3 ma non mi ricordavo neanche i primi 4 qualcuno se li segni vi prego ma sono i trucchi di gta questo è vero jetpack voliamo scusa rato ma io vedo tutto quanto sballato allora segnati da giù 5 left lascio 9 il film della pizza 3 lascio 6 a left inteso destra non lascio che scusami ok allora chi che sei disegnati io sono fulvio si dai che si disegnati come no ma ovvio che dovevi segnarli tutti pare io c'ho 100.000 iscritti non ti parliamo per segnarli effettivamente aspetta che prendo addirittura un foglio che fulvio detto aveva mandato un messaggio in privato ma ha detto tranquillo li segno io dite qualcosa però ciao massimo della catarsi allora io sono zeffo e sono un frigorifero e praticamente lancio i raggi letali e se mi arrabbio distruggo i pianeti e sono risuscitato tante volte e poi sono ovo io sono dlarz sono un cancro faccio video dai contenuti discutibili ma la gente riguarda lo stesso ma 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 buon ma